Buongiorno ai telespettatori della CIE e benvenuti a un nuovo appuntamento con la segna stampa. Iniziamo subito a vedere quali sono i principali fatti del giorno riportati sui quotidiani nazionali e regionali. Partiamo appunto dai fatti di casa nostra, in particolare ci soffermiamo sul quotidiano del Sud, in primo piano il caso che riguarda la sanità, in particolare il centro cuore di Reggio Calabria. Andiamo a vedere insieme il titolo. Sanità, un'emorragia da 40 milioni. Il centro cuore finito nel 2011, collaudato e mai andato in funzione. La Guardia di Finanza segnala alla Corte dei Conti il danno erariale da 40 milioni di euro, i ritardi dovuti all'impossibilità di assumere personale specializzato. E poi sempre in primo piano questa mattina il caso Rende, indagini su Sandro Principe, sentito dai PM a Catanzaro, accertamenti investigativi in un'inchiesta che sembrava scemata. Dunque il caso Rende, l'inchiesta va avanti. E poi per quanto riguarda la Regione Calabria, eccolo l'altro argomento di questa mattina. Melissari senza requisiti, Calabria lavoro nella bufera, controlli anche sulle spese per la sede. E ancora, sempre dalla nostra Regione, un singolare caso che riguarda il social network Facebook. Il profilo di Facebook, ci pensa il giudice, ordinata la cancellazione del post mio padre è morto al pugliese di malasanità. Sentenza innovativa del Tribunale di Catanzaro contro un ingegnere di Sersale che appunto aveva scritto sulla sua pagina questa frase che riguardava il padre ed un presunto caso di malasanità. E adesso andiamo avanti, ci soffermiamo sulla prima pagina dell'altro quotidiano, cronache del garantista. Sempre in primo piano la polemica che riguarda il centro cuore di Reggio Calabria. Poteva salvare tante vite, è diventato l'ennesimo spreco. Anche la finanza si accorge dello scandalo del centro cuore, il polo d'eccellenza Regino che non è mai entrato in funzione. Dopo anni di denunce dunque anche la guardia di finanza si è accorta dello scandalo che riguarda il centro cuore di Reggio. Poteva essere un centro d'eccellenza per le cure, è diventato appunto l'ennesimo spreco. E' sempre su questo argomento, sulla sanità, l'inchiesta oggi riportata sulle pagine del garantista. Eccolo, lo vediamo in questo trafiletto, tutte le incompiute della sanità sulla pelle dei cittadini. E poi c'è un'altra polemica che arriva dalla Regione Calabria. Tallini attacca Oliverio. Non vuoi la ferro in consiglio. Lui, quella legge, l'hai votata tu, risponde. Il governatore costituisce la Regione contro il ricorso delle candidata esclusa da Palazzo Campanella, ma poi dichiara, è un atto dovuto, la legge elettorale è sbagliata, la cambieremo. E poi ancora, sempre in primo piano, la vicenda di Ruberto e della Fondazione Calabria Etica. L'intervista questa mattina contro di me, dice Ruberto, un disegno politico biancavitalone, era in fondazione prima che diventasse la mia compagna. Dunque parla il presidente di Calabria Etica, finito nella bufera per presunte assunzioni pre-elettorali. E ancora, un'altra notizia è la cronaca che arriva da San Vito all'Oionio, lo prendono ad accettate per un debito. L'uomo è stato inseguito e aggredito a San Vito all'Oionio nel Catanzarese, si è salvato chiamando i carabinieri che lo hanno trovato ferito e sotto shock. E ancora, sempre in primo piano, c'è un'altra denuncia, la leggiamo insieme. Non c'è posto né all'Ocri né al Reggio, così è morto mio padre. La denuncia appunto di un cittadino di Reggio Calabria. Più avanti andremo ad approfondire anche questa notizia. E appunto, andiamo a soffermarci sulle pagine interne dei quotidiani, ripartiamo dal garantista, entriamo nelle pagine interne, rimpallata dai medici, così è morto mio padre. Ecco la notizia, ancora un decesso sospetto denunciato ai carabinieri di Locri. Il gastroenterologo non ha le chiavi per entrare nella stanza in cui è collocato il macchinario per la gastroscopia, così viene disposto il trasferimento del paziente. A metà strada però l'ambulanza inverte la marcia e torna all'ospedale di Locri, a Reggio Calabria. Non possono accogliere il malato. E quanto si legge nella denuncia presentata ai carabinieri di Locri, da Vincenzo Misserianni, ex assessore di Marina di Gioiosa. E ancora la cronaca, lo avevamo letto in prima pagina, il tentato omicidio, lo inseguono con un'accetta, si salva chiamando il 112, il fatto è avvenuto a San Vito, nel Catanzarese. Andiamo avanti, vediamo quali sono gli altri argomenti. Ovviamente l'altro argomento riportato oggi sui quotidiani riguarda la vicenda del centro cuore di Reggio Calabria. Proprio ieri la finanza è andata per fare ulteriori accertamenti. Lo scandalo del centro cuore titola oggi il garantista cardiochirurgia fantasma. Doveva essere un centro d'eccellenza invece è finito per diventare l'ennesimo spreco. La guardia di finanza appunto indaga e parla di danno quantificabile in 40 milioni di euro. E soffermiamoci ancora su questo caso. La struttura di Reggio aspirava ad essere il fiore all'occhiello della regione ed è rimasta una cattedrale nel deserto. Continuiamo a sfogliare le pagine interne del garantista. Ecco la politica, il Forza Italia scoppia verso la resa dei conti. Il capogruppo Nicolò bacchetta duramente i consiglieri ribelli Tallini e Orso Marso. Il Cosentino intanto conferma non sono iscritto al partito, ci sto ancora pensando. Il vice coordinatore Foti ingeneroso, l'atteggiamento di Fausto basta coi doppi giochi. E ancora inchiesta Arpacal, il PM processo per sette. Il rinvio a giudizio di tutti gli indagati è stato chiesto dal pubblico ministero al termine della requisitoria nell'ambito del procedimento relativo all'inchiesta sui presunti illeciti connessi alla stabilizzazione di personale presso l'Arpacal avvenuta tra il 2008 ed il 2010. E ancora la politica con l'esclusione di Vandaferro. Dunque si riaccende il caso Ferro. Polemica Tallini-Oliverio, il consigliere. Regione Cinica con atto monocratico assunto dal neo governatore si è costituita nel giudizio scaturito dal ricorso presentato dalla nostra candidata. La replica è un atto dovuto. Cambierò questa legge che tu invece hai votato. Dunque animi accesi. Il presidente della regione, il forzista, è un campione di ipocrisia, dice appunto Oliverio. Vanda penalizzata sempre dalla prima, ma l'ex assessore dovera, si domanda oggi. L'articolo a firma di Aldo Varano sul pagine del garantista. Andiamo avanti. Ci soffermiamo sulla provincia di Catanzaro. In apertura si parla di prevenzione sismica. A Catanzaro ci sarà in particolare la microzonazione. La vediamo insieme. L'analisi, la prima in Calabria, lo scopo di analizzare le condizioni del sottosuolo e le aree più o meno stabili in città. L'assessore al territorio Giuseppe Vitali ha recuperato un apposito finanziamento per appunto promuovere questo progetto di sicurezza. E ancora, sulle pagine di Lamezia Terme, verso le elezioni comunali, il titolo che è virgolettato, noi puntiamo su sogni. Alcuni esponenti del PD propongono la candidatura del medico e le primarie del centro-sinistra. Dunque, dopo l'ufficializzazione della candidatura di Rosario Piccioni a sindaco della città, effettuata dal Movimento Lamezia Insieme, e su cui Selle dichiara che, come ribadito in più occasione nel rispetto degli altri candidati, noi sosteniamo il movimento, e la candidatura di Rosario Piccioni alle primarie del centro-sinistra. Oggi è la volta di alcuni esponenti del PD che lanciano invece la candidatura di Tommaso Sonni alla carica di primo cittadino, proponendo contestualmente le primarie del centro-sinistra. Così, Dallamezia Terme e invece a Vibo Valencia, l'apertura è dedicata a Triparni con la sua emergenza ambientale. Tucci, persi cinque anni, l'esponente di Selle critica l'operato dell'amministrazione comunale, niente registro tumori, niente approfondimenti, e le malattie continuano ad aumentare, dichiara Danilo Tucci, il segretario provinciale di Selle, che vediamo in basso in questa foto. E poi accanto una notizia di cronaca riguarda la sentenza della Cassazione sulla strage di Scaliti. Il processo è da rifare. La prima sezione penale della Cassazione è annullato con il rinvio degli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro la sentenza di secondo grado emessa il 19 giugno dello scorso anno relativa appunto alla strage di Scaliti nel Vibonese, che il 27 dicembre 2010 costò la vita a cinque persone dello stesso nucleo familiare. Andiamo avanti. Assunzioni all'Aterp. la Guardia di Finanza acquisisce le carte. Dunque i finanzieri stanno visionando anche una serie di atti relativi alla stipula di contratti. Il caso di Nello Ruello, del testimone di giustizia, sempre in primo piano sulla pagina di Vibo, del garantista avrà la tutela. Il Consiglio di Stato accoglie dunque il ricorso presentato da Nello Ruello, ripristinando nei suoi confronti il dispositivo di tutela personale, tutela che il 31 dicembre gli era stata tolta. E ancora una polemica, sempre da Vibo e Valencia, riguarda l'abbattimento degli storici pini di Piazza Narumma. La decisione dell'amministrazione comunale ha suscitato vibrate proteste e il WWF scrive alla Procura della Repubblica. Ci spostiamo adesso sulla piana di Gioia Tauro e l'ospedale ad occupare il titolo di apertura. Movimento 5 Stelle vuole chiarezza, ma sull'ubicazione parlano i documenti. La relazione delle RUP regionale Pallaria svela i reali motivi della scelta, questione di ordine pubblico e baricentricità hanno fatto propendere per Palmi. Vediamo in basso quest'altro trafiletto. Il Comitato Civico ha interpellato la Procura ed il Tar ottenendo solo rigetti delle istanze e i procedimenti mai aperti sulla vicenda. E poi un intervento riguarda sempre questo articolo. La questione dei terreni sospetti non esiste. Ci spostiamo nella Locride. I controlli nelle case popolari di Gioiosa. I militari hanno rinvenuto durante questi accertamenti eseguiti proprio ieri. Marijuana è scoperto una serie di truffe. E ancora la cronaca tentato omicidio in manette un quarantenne rumeno. Su di lui prendeva un mandato di cattura europeo. L'uomo è stato individuato negli alloggi comunali e non ha opposto resistenza davanti ai carabinieri. Ora dovrà essere riconsegnato alle autorità preposte del suo paese, ovviamente. E poi si parla dell'incendio al centro di accoglienza. Il Vescovo Oliva condanna l'attentato. Un gesto vile, dice. Gesto compiuto con metodi mafiosi. Ostacolare l'accoglienza è un atto gravissimo che offende ogni comunità civile. Così il Vescovo in merito all'attentato al centro di accoglienza. E questi erano i principali argomenti riportati questa mattina sulle cronache del Garantista. Adesso ci soffermiamo sul quotidiano del Sud. Andiamo a vedere insieme quali sono i principali argomenti riportati nelle pagine interne del quotidiano. In primo piano vorrei soffermarmi sul caso di malasanità che è avvenuto a Catania proprio nella giornata di ieri. Non c'è posto. Muore. Beh beh, la tragedia a Catania. La piccola aveva solo tre ore di vita. Fatale una crisi respiratoria. Ma la culla era a 100 chilometri di distanza. Dunque la notizia la leggiamo insieme. Non trovare posto in ospedale e morire in ambulanza a oltre 100 chilometri di distanza dal luogo dove sei nata da circa tre ore è stato tragico. Il destino della piccola Nicole è venuta al mondo in una clinica privata di Catania la notte scorsa a conclusione di una gestazione regolare e un parto è andato secondo i piani previsti. Poi le complicanze e il decesso della piccola. In primo piano sulle pagine del quotidiano senza requisiti da cinque anni la notizia che riguarda la politica al vaglio della regione gli acquisti di tappeti, quadri e parchè per la sede per 100 mila euro dunque merissari alla guida di Calabria Lavoro come commissario in violazione di legge. Dunque in corso una verifica puntuale sull'attività di azienda Calabria Lavoro ente strumentale della regione istituita con legge 5 del 2001 per favorire le attività politiche attive per il lavoro. Un'altra inchiesta da Vibo Valencia con la finanza che indaga sull'aterp di Vibo Valencia sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, i contratti, l'acquisto della sede e la ristrutturazione degli alloggi a pizzo. La polemica che arriva sempre dalla regione Calabria Ferro, Lite Tallini, Oliverio Morrone aggiorno l'esito del ricorso della candidata di Forza Italia Vanda Ferro. E ancora andiamo avanti la sanità colpo al cuore da 40 milioni di euro. Questa è la notizia del giorno si parla appunto del centro cuore di Reggio Calabria ultimato e collaudato nel dicembre del 2011 ma mai entrato in funzione. I finanziari hanno ricostruito l'iter burocratico che ha condotto all'ennesima incompiuta. E poi oggi è riportato sulle pagine del quotidiano una lettera medici vicini alla comunità di Firmo e alla famiglia di Francesca Pia Russo vediamo insieme la direzione ospedaliera e la divisione di cardiologia del nosocomio di Castrovillari appunto esprimono solidarietà alla famiglia della piccola Francesca Pia Russo alla comunità di Firmo per la morte della stessa si parla appunto della bambina morta per complicanze qualche giorno fa. E ancora il caso screening il caso in Parlamento la denuncia del quotidiano in un'interrogazione del Movimento 5 Stelle la vicenda degli screening oncologici finisce in Parlamento la deputata Dalina Nesci del Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione denunciando l'ennesimo disservizio nella sanità calabrese sollevato appunto dal quotidiano del Sud. Andiamo avanti il caso rende in primo piano ancora indagini su Sandro Principe l'esponente politico regionale sentito a Catanzaro dal magistrato della DDA va avanti l'inchiesta sulla gestione della cosa pubblica e ancora la stabilizzati Arpacal il PM chiede il processo anche per scalzo in totale sono sette gli imputati nel processo che riguarda appunto l'Arpacal e ancora dalla mezzia terme la cronaca busta con proiettili e pistolettate contro due sindacalisti aziendali intimidazioni a Roberto e Caparello sono due diverse intimidazioni avvenute a distanza di pochi giorni e sui due casi indagano le forze dell'ordine da Catanzaro la cronaca massacrato per 7 mila euro lo leggiamo insieme il titolo quarantenne colpito con accetta il calcio di una pistola dai suoi creditori tentato omicidio a San Vito un vibonese ed un catanzarese in manette il creditore non paga il presunto debito di 7 mila euro e loro Domenico Pirro 40 anni di Montepaone e Carmelo Sannà 43 anni di Gero Carne gliela fanno pagare a caro prezzo e ancora si parla dell'incendio di Camini la condanna di Monsignor Oliva vi letto compiuto con metodi mafiosi oggi fiaccolata presso la casa di accoglienza distrutta dalle fiamme Davivo Valencia da rifare il processo ai 4 imputati per la strage di Scaliti la Cassazione annulla con rinvio dunque sentenza clamorosa il processo è da rifare andiamo avanti vediamo quali sono gli altri argomenti di stamattina riportati sul quotidiano del sud la notizia che arriva da Catanzaro e riguarda il social network facebook perché ecco cosa dice l'articolo i giudici correggono facebook ordinanza all'avanguardia del tribunale che ordina la cancellazione di un post l'utente aveva denunciato sul profilo mio papà morto di mala sanità e dunque adesso arriva la sentenza del tribunale che ordina appunto la cancellazione di questo post da Catanzaro sempre si parla di opere pubbliche lancia in contra l'assessore De Gaetano la richiesta di Berna a sbloccare le opere incompiute questo è quanto è emerso nel corso del convegno e ancora da Catanzaro lo sport si fa in classe parte il progetto dell'ufficio scolastico regionale con il ministero in Calabria coinvolte 119 scuole e formazione per le maestre da Vibo Valencia in apertura le prossime elezioni comunali si parla questa mattina in particolare di Forza Italia no Forzisti con Costa primi timidi contatti tra la diplomazia azzurra e l'ex giudice vibonese si attendono pure le primarie del centro-sinistra poi si decide il candidato e sempre sulle primarie Episcopio Tradizioni sostiene il candidato Pietro Giamborino Andiamo avanti sempre da Vibo Valencia la protesta di alcuni cittadini per il taglio dei pini accuse e consensi per Piazza Naruma gli ambientalisti durissimi con l'amministrazione comunale i residenti della zona ci siamo rivolte alla magistratura per i danni alle auto e alle case disposizione dell'autorità giudiziaia si legge nell'articolo in basso la foto che ritrae il momento del taglio di questi pini e ancora sempre su questo argomento uno scempio che insulta il patrimonio naturalistico così Lega Ambiente l'associazione Lega Ambiente parla del taglio degli alberi e poi la replica dell'assessore all'ambiente Pietro Comito ecco perché vanno abbattuti dice l'assessore richiama l'ordinanza della magistratura appunto per l'abbattimento di questi pini che si trovavano in centro città andiamo avanti provincia di Vibo Valencia si torna punto e a capo dunque stipendi arretrati e futuro al centro della protesta oggi si tin alla prefettura di Vibo Valencia ieri stato proclamato lo stato di agitazione assemblea con la segreteria del FP CGL dettori dunque di nuovo sul piede di guerra i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Vibo Valencia che ieri hanno discusso del loro futuro e in particolare non ricevono lo stipendio da ben tre mesi ecco la scritta chiuso per lutto la provincia è morta si vede si legge in primo piano informato ancora una volta di questa vicenda il prefetto Bruno e stamattina appunto i dipendenti dell'amministrazione provinciale torneranno davanti all'UTG per protestare e poi c'è riportato sul quotidiano il caso relativo ai buoni mens la Teti puntualizza immediata replica federconsumatori le norme vanno osservate andiamo avanti l'inchiesta della fiamme gialle ieri blitz delle fiamme gialle all'aterp di Vibo Valencia l'inchiesta l'indagine mira a far luce su contratti sede e alloggi il commissario uscente Daffinà afferma sono tranquillo abbiamo operato in trasparenza dichiarazione che ha rilasciato anche ai nostri microfoni e andiamo avanti vediamo queste foto dove vengono riportate le fasi del blitz ieri della finanza il controllo nella sede sotto la lente di ingrandimento degli investigatori contratti l'acquisto della sede delle palazzine di Pizzo poi la precisazione del commissario Daffinà che ha voluto chiarire gli aspetti della vicenda dopo averlo già fatto in precedenza dunque finanziari al lavoro l'attività di acquisizione degli atti da parte dei finanziari è iniziata ieri mattina alle 9 ed è terminata nel primo pomeriggio andiamo avanti strage di scaliti furono provocati processo da rifare così ha deciso la Cassazione che appunto ha annullato con rinvio la sentenza d'appello l'attenuante per i quattro imputati della famiglia Vangeli deve essere rivalutata in basso la foto di Ercole Vangeli Francesco Saverio Vangeli Pietro Vangeli e Gianni Mazzitello ancora andiamo avanti altre notizie da Ioppolo con ex amministratori di Ioppolo incandidabili improcedibile la domanda del Ministero dell'Interno a seguito dello scioglimento per mafia il Tribunale accoglie le richieste degli avvocati di dato Maccarone e Corsaro la questione del diritto di voto e delle elezioni regionali ancora vediamo quali sono gli altri argomenti la vicenda acqua sporca l'inchiesta acqua sporca le accuse mosse in particolare ai 16 indagati vediamo insieme questo articolo dall'omissione al falso all'avvelenamento delle acque all'abuso di ufficio per chi ora rischia il processo penale questi capi di imputazione del pubblico ministero e dall'inchiesta emerge come le acque non siano mai state le acque dell'alaco non siano mai state analizzate andiamo avanti l'appello sempre riguarda la notizia l'inchiesta acqua sporca vediamo quali sono i retroscena il comitato civico proserre si rivolge alla regione occuparsi realmente dell'alaco la vicenda a contorni sempre più inquietanti così riporta questa mattina l'articolo sul quotidiano per lega ambiente episodio gravissimo se le accuse fossero confermate lo schiavo del partito democratico sbloccare quei 3,5 milioni di euro andiamo avanti sempre dal vibonese ci soffermiamo in particolare sulla strada di Messiano a Filandari la strada è un colabrodo esasperati residenti e i tanti automobilisti che ogni giorno attraversano l'arteria ancora nessun intervento per rimediare ai disagi derivanti dalle buche in basso la foto di una delle tante buche presenti che attraversa Messiano di Filandari alle porte di Vibo Valencia e sempre riguarda la viabilità quest'altra notizia che arriva da Brognaturo nelle serre situazione al limite l'hotel La Cina rimasto isolato per diverse ore dunque viabilità critica nelle zone interne della provincia che le vie di comunicazione ogni giorno diventano sempre di più inaccessibili La vicenda del SUEM il comitato non si arrende siamo alla sanità in particolare ci spostiamo a Nicotera dove i cittadini continuano a chiedere con forza una postazione del 118 da parte degli utenti si schiera il consigliere regionale Vincenzo Pasqua la questione è stata discussa come si ricorderà qualche tempo fa proprio in prefettura sempre in quella circostanza il consigliere regionale Vincenzo Pasqua aveva assicurato il suo impegno per risolvere la questione che riguarda appunto l'assenza di una postazione di ambulanza nel territorio di Nicotera adesso ci spostiamo alla mezzia terme apre la pagina del quotidiano con il caso a marzo un evento per Carlei lo leggiamo insieme il titolo Speranza dice avevamo pensato di proiettare il film del regista in anteprima il sindaco non è stato possibile per problemi legati alla distribuzione dunque sarà un momento di gioia di festa per la città questo è l'auspicio del sindaco di la mezzia terme Gianni Speranza prima di proseguire con la rassegna stampa ci fermiamo come sempre per qualche minuto diamo adesso spazio alle nostre consuete rubriche la rassegna stampa torna più tardi a tre poco visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia a o a 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 Grazie.